buongiorno a tutti io oggi vi faccio i votini con la truga come io so fare adesso vi faccio vedere come io faccio allora prendo un pezzo di carne un pezzo di carne le faccio questo lavoro qua perché ha bisogno di farlo adesso vi faccio vedere come si fa si bagna così poi così come potete vedere con le mani così poi si prende un pochettino di questo si fa questo lavoro qua si gira si fa lo stesso un'altra volta così poi finito questo finito questo preparo subito mettere la lattuga come potete vedere voi la lattuga così come faccio io poi si prende e si gira così si chiamano i voltini questi che io sto facendo i voltini poi si prende lo spago e si legano come vedete io lo sto legando come io so fare ecco qua c'è da dire che la teglia l'ho già unta come potete vedere poi ne prendo un'altra poi ne prendo un'altra poi ne prendo un'altra poi ne prendo un'altra e le faccio sempre lo stesso lavoro olio di ungo un po' lo giro e faccio un altro lavoro qua ecco qua poi prendo lo spago e lo lego poi ho tutto fatto indiretto poi prendo lo spago e lo lego questo tutto fatto in diretta come potete vedere non ce n'è roba scoppiazzata dagli altri ma li faccio io mi ha capito li faccio io ecco un altro fatto adesso prendiamo l'altro e rifacciamo sempre lo stesso lavoro come potete vedere lungo perché vuole fatto così poi prendi qua lo stesso dei pazzi dito così poi prende un pochettino perché ci vuole il condito così poi prende un altro po di sale come potete vedere poi prendi subito la latuca si fa da questo lavoro qua si prende e si gira così ecco qua ringrazio chi mi ha dato il vestito di cuoco che si chiama massimo leone lo ringrazio moltissimo della divisa che mi ha dato e ne sono fiero di quello che lui mi ha dato si prende questo e si lega così come potete vedere in diretta si fa come io so fare già c'è da dire anche un'altra cosa che la teglia vuole unta tutto in diretta io faccio non ho cosa che io non faccio in diretta ma faccio in diretta quello che io faccio si bagna perché di ora è fatto questo lavoro qua poi si prende l'altra parte e si fa la stessa cosa ungele così prende il sale e si fa questo lavoro qua si gira e si fa la stessa cosa cioè deve essere una appiantanza buona come potete vedere io le faccio in diretta non è che dico che me la fanno gli altri non lo faccio proprio io guarda qua poi si gira così sempre girando ecco qua e poi ci si lega si prende la corda il codicino ci si infila così e poi si lega indiretta proprio indiretta ringrazio chi mi ha regalato anche il cosa per poterli fare in diretta senza avere nessun problema ringrazio i miei colleghi che mi stanno guardando ringrazio e quelli che fanno le disinfestazioni Maurizio il mio collega ringrazio Zizio che sarebbe un fratello per me per ogni cosa che ho bisogno quindi lui è sempre presente poi lo giri gli fa lo stesso lavoro e poi lo riempi di questo ecco qua questi si chiamano i voltini in voltini di lattuga poi prendo di giro questo sono piattanze buone come potete vedere è tutto in diretta faccio io ho letto come potete vedere io sono sui bottoni di lattante cuoco però per certa gente io non ci vogliono loro a farmi vedere come si fa veramente perché mettersi in mostra davanti alla telecamera e fare un filmato come io faccio questo non è da tutti come potete vedere io lungo perché bisogna fare così si bagna un'altra parte e poi si mette sale si gira e si fa la stessa cosa poi si prende bene la lattuga e si fa questo lavoro qua si prende e si gira così così si prende e si gira così così ringrazio tutti i miei colleghi ringrazio la compagnia Nelly ringrazio tutti i miei colleghi ringrazio la compagnia Nelly ringrazio ringrazio il Consorzio ringrazio i Carabinieri tutti con tutti coloro che mi stanno sostenendo ringrazio Franca ringrazio le ragazze del supermercato del supermercato del derodaggio che mi stanno guardando. Ringrazio la vigilanza, ringrazio la polizia, i carabinieri, il meglio manager e la compagnia Nelli. Ringrazio tutti, senza escludere nessuno. Come potete vedere, me lo faccio in diretta, non è che devo aspettare che me lo facciano vedere gli altri, no, assolutamente no. Vedi, io prendo, poi lo giro così, lo giro così come poi vedete. Ecco qua. Poi prendo lo spago e lo leggo. Io ringrazio tutti chi mi sta guardando e si può dire che queste cose a me piacciono farle. Mi piace farle e per chi segue me, come io so fare, come potete vedere, li faccio in diretta e non ho paura che gli altri mi dicano quello che io devo fare perché ve li faccio vedere subito in diretta. Adesso sono crudi, sono crudi. Adesso li mettiamo a 180 gradi per 10 minuti e buon appetito a tutti e quando io li tolgo dopo vi faccio vedere la composizione come io so fare. A dopo, grazie. Grazie.